Qui dice che i Puffi sono delle creature mitologiche del Belgio, conosciute anche con il nome gli Stroumpfs, e sono stati creati da Peio. Dice anche che portano fortuna. Ma cos'è questo aggeggio di ricerca magico? Ora sto utilizzando Google. Oh, Google! Mi piaceva tutto, mi piacevano i personaggi, mi piaceva Puffetta ovviamente, ma continuo a guardarli con loro. Mi piaceva che ricreavano questo mondo simile al nostro, ma in realtà loro erano appunto dei Puffi, degli esseri mai visti prima. Arrivo, 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 eccomi! Fermate queste scale d'accello! Non mi piaceva per regolare le scale! Ehi! Che cos'è? Fammi vedere! Ne voglio uno, mami! Fammi vedere! Non so, non riconosce il codice. Mio figlio vuole uno di quei pupazzi elettronici. Mi potrebbe aiutare. A mia figlia piace Rosa. Ce li avete anche, Rosa? Scusate, in quale reparto l'ha trovato? Io prendo quelli in esposito. Fai giù le mani! I Puffi sono stati la prima comunità che ci ha fatto innamorare da bambini, no? E un po' tutti sognavamo di trovare la nostra Puffetta. Mi piaceva il fatto che Puffetta era da sola in mezzo a tanti Puffi che la coccolavano. Gargamella col gatto e tutte le avventure dei Puffi, bellissime. Arri, scorta fuori questo mentecatà. Mentecatto? Sicurezza! Io sono il grande e potente Gargamella! Mentecatto! Un mentecatto può fare questo? Alla cap... Dio mio mamma! Come ce l'ho uscito?